vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana lumi beer il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico biodiversità performance ambientale lumi beer nelle sue cinque versioni disponibili 4 per consumo veloce e dissetante e la versione magnum per intenditori lumi beer si abbina a qualsiasi palato lumi beer è un prodotto esclusivo azienda agricola pancera il buon seme i buoni frutti ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net gli aggiornamenti di cronaca dal friuli venezia giulia dunque apriamo subito con una serie di incidenti stradali il primo a trieste dove una donna del luogo di 52 anni si trova ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di catinara a seguito delle perite riportate nel sinistro avvenuto poco prima delle 14 di oggi lungo la strada regionale trieste 6 a ternova piccola in comune di duino aurisina finita con la sua auto contro un muro la donna sempre cosciente è stata estratta dalle lamiere contorte dai vici del fuoco del distaccamento di vila piccina con l'uso delle pinze oliodinamiche consegnate ai sanitari rilievi da parte degli agenti della polizia di stato e adesso ci trasferiamo in provincia di pordenone per un incidente questa volta in montagna dove un parapendista austriaco è precipitato intorno alle 13 dopo il decollo dal monte valinis sulle alture di ciaurlec in comune di meduno nella caduta la vela è rimasta impigliata tra le chiome di due frassini situazione che ha reso particolarmente delicata l'operazione di recupero è stato necessario intervenire da parte dei soccorritori da entrambe le piante per trarlo in salvo sul posto le di soccorso regionale i soccorritori della stazione di maniago del soccorso alpino e i vigili del fuoco il parapendista un uomo del 1998 di zelham se si trovava sospeso a circa 10 12 metri di altezza dal suolo gli è stato raccomandato di non effettuare alcun movimento attesi i tempi necessari il parapendista ha scelto di rientrare poi una volta a terra in autonomia scortato dai soccorritori non è stato dunque necessario ricovera in ospedale l'operazione si è conclusa poco prima delle 15 tre dei soccorritori intervenuti da terra e adesso parliamo di viabilità andiamo a tricesimo con le dichiarazioni dell'assessore regionale pizzi assessore oggi da questo incontro con l'amministrazione comunale di tricesimo quali futuro per risolvere i nodi della viabilità intanto dobbiamo dire che tricesimo è la porta di udine quindi è fondamentale trovare delle soluzioni a una situazione molto critica perché la strada regionale che passa all'interno del centro abitato e che ha tre semafori ancora esistenti è una cosa inaccettabile nel 2022 per cui oggi siamo venuti fare un sopralluogo capire almeno di eliminare uno di questi tre semafori con una rotonda sembra che tecnicamente sia fattibile adesso facciamo il progetto faranno il progetto troveremo magari finanziamento per fare almeno una rotonda e adesso parliamo di un altro intervento dei vigili del fuoco sempre a trieste un incendio che è scoppiato in via errera a trieste proprio sotto l'intercapedine dello svincolo della cosiddetta grande viabilità triestina sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale giuliano a prendere fuoco materassi e rifiuti vari all'interno appunto delle intercapedini sul posto anche i carabinieri e il personale dell'ANAS che è concessionario della tratta l'operazione si è conclusa poco dopo le 13 con la riapertura alla libera circolazione e adesso andiamo a chiudere con i numeri del covid in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda appunto la situazione su 5.599 tamponi molecolari sono stati rilevati 264 nuovi contagi con una percentuale di positivo del 4 e 72 per cento 6.166 test rapidi antigenici realizzati dei quali sono stati rilevati 423 casi pari al 6 e 86 per cento le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15 mentre i pazienti ospedalizzati in alti reparti calano a 250 i decessi nella giornata odierna sono 5 e con questa notizia seguiamo qui questa edizione del nostro audio video giornale vediamo appuntamento più tardi per un altro live ulteriori news sul nostro sito friulitv.net o altrimenti sui nostri canali social collegati non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? l'Umi Beer il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico biodiversità performance ambientale l'Umi Beer nelle sue 5 versioni disponibili 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori l'Umi Beer si abbina a qualsiasi palato l'Umi Beer è un prodotto esclusivo azienda agricola pancera il buon seme, i buoni frutti